buongiorno buongiorno vorrei un tè con il limone e un cornetto con la crema per favore per me una coca cola senza ghiaccio 5 euro e 40 marina sandro ciao ragazzi ciao 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 marina questa è anna anna questa è marina piacere piacere ciao grazie Per Instagram? Ah, hai Instagram? Sì, e tu? Anch'io ho Instagram E tu Francesca? Io? No, non ho Instagram Ho Facebook E tu Sandro? Hai Facebook? No, non ho Instagram, non ho Facebook Ma hai soulmate? No, non mi piace la tecnologia E ora ragazzi? Ciao Antonello Ciao Piacere, io sono Antonello Io sono Anna, piacere Scusa Anna, tu quanti anni hai? Ho 28 anni Io ho 33 anni È la mamma Qual è il tuo numero di telefono? Il mio numero è 338-11-74-837 3-7 Piacere, ciao ragazzi Ci vediamo presto Ciao 338-11-7-cuà Ciao Marcienda 7-4-7-4-7-4-7-4-7 Ciao Anna Ciao!